Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui con un'altra collezione di Zeigard GX Cromatico. Sì, perché ne ho portata già una, a parte un Darkrai non ho trovato praticamente nulla, la cosa non mi sta bene. Sapete che se posso io insisto nel magari riaprire una collezione particolare che non mi ha detto molta fortuna, una a caso fu appunto il caso con le collezioni di Landorus, Tandorus e Tundorus. Ne ho aperte due, tre mi pare, non trovo mai niente, però le ho aperte, o con Trionfo dei Draghi che sono andati avanti per chissà quanti video. E quindi ho detto riproviamo, ne ho recuperata un'altra, sono riuscito a recuperarne un'altra, riguardiamo un attimo il retro, ma comunque trova ordine nel caos con Zeigard, la collezione di Zeigard Cromatico del GGC Pokémon, contiene la carta promozionale olografica, la carta gigante e quattro buste di espansione, oltre che all'immancabile carta codice. Il pacchetto nell'insieme l'avevamo già visto nel precedente video di Zeigard, e adesso vado avanti un po' più spedito nella speranza di riuscire a trovare qualcosa di meglio. Dai, quattro buste per sogno, insomma dai, non è che posso, vedo là una collezione vecchia che non ho mai visto, la prendo e non trovo niente, poi ne trovo un'altra, magari pagandola anche un po' di più perché più passa il tempo più queste cose diventano introvabili, e mi dice male comunque, no dai, un po' di fortuna, non chiedo tanto, eh, ma giusto un po'. Allora, mettiamo tutto, secondo di non far danni, questa era appunto la carta di Zeigard GX, la Sun and Moon 122, l'avevamo già visto, questa è la vostra carta codice di Zeigard, e questa è la carta Jumbo di Zeigard. Ecco abbiamo i quattro pacchetti, guardiani nascenti, che odio, turbo blitz, ultra prisma e apocalisse di luce. Cominciamo con guardiani nascenti, questo ve lo posso già anticipare, non troverò nulla, guardiani nascenti, su questo punto di vista non mi delude mai, tant'è che non esco neanche ad aprire il pacchetto, ecco qua, non mi delude mai perché so già che, eccolo qua, da ricordarsi in turbo blitz di fare il trick a tre e non a quattro, perché l'ultima volta che l'ho fatto in turbo blitz, l'avevo fatto a quattro, cioè nel video di Zeigard l'avevo fatto a quattro, mi ero spoilerato la rara. Allora, distintivo acqua, super martello, tentacle, stafal, sensu di alola, cotoni, bellsprout, carvania e drampa, holo, come ve l'ho detto, ok c'è una holo, ma insomma, guardiani nascenti non delude mai. Ultra prisma, troveremo questo giratina di copertina? Spero di sì, allora, qua avete la vostra carta codice, uno, due, tre, quattro, eccola, mi pare di aver visto qualcosa, energia fuoco, un cranidos, un oncro, un bronzing, un carnivine, un, giustamente trovi oncro, non vuole avere anche un murcro, un magnemite, vedo qualcosa, snover, un glenia, sì, che sia un altro dark cry, che sia, è una, madonna mia, ma veramente, è un altro dark cry, è un roserede, ma non importa, abbiamo trovato il secondo dark cry prisma, nella seconda collezione GX di Zeigard. Nella primo pacchetto dell'altra collezione avevamo trovato, se non ricordo male, un drago holo, e poi abbiamo trovato dark cry prisma. Io non vorrei di essere dentro un grande déjà vu, in cui qua non trovo un kaiser, e qua nemmeno. spero di no, ma, insomma, non so quante possibilità ci siano che in due collezioni premium dello stesso Pokémon io trovi praticamente le stesse cose, un drago holo e la stessa identica, identica, identica prisma. Energia fulmine, Araquanid, Klefki, Frogadier, Scatterbug, Gumi di Pider, giustamente, Flabebe, un Espur, un Infernei Preverse e un Xurktri raro, ma non holo. Tre pacchetti, e anche qua, l'unica cosa che salvo è dark cry prisma. Manca l'ultimo di Turbo Blitz. Mio Dio, va a finire che mi metto ad aprire solamente box, perché almeno lì sono sicuro di trovare qualcosa. Anche perché queste collezioni premium vecchie, più passa il tempo, più veramente iniziano a salire di prezzo, però io un po' per collezionismo, un po' per portarle sul canale, perché comunque è roba che non ho mai portato, le recupero, e poi va a finire che trovo sempre solo dark cry. Svubat, Quilladin, Seeking, Miao, Zorua, un bel Ralz, un Pampur, un Vanillite, un altro Quilladin, giustamente, perché trovarne uno quando puoi trovarne due, e un Florges raro. Che dire ragazzi, questa collezione poteva restare benissimo chiusa, anzi, poteva restare benissimo lì dove l'avevo trovata, perché praticamente è un more of the same di quella che avevo aperto precedentemente, qualche tempo fa. Che dire ragazzi, per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!